Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Baldoni e sono uno studente del primo anno di storia e storie del mondo contemporaneo. Come vedete non sono affatto un giovane studente, ma formazione e cultura vanno oltre i confini anagrafici. Sono un nutrimento, potremmo dire, di cui non si può fare a meno. Ho scelto l'Insubria e più specificamente questo corso di laurea perché è un percorso universitario unico. Un percorso che ti proietta nel presente attraverso la storia naturalmente e che ti permette di comprendere il mondo e la società in cui viviamo e che spesso invece ci sfugge, purtroppo. Io credo davvero che capire il presente sia il segreto per fare le giuste scelte per il futuro e ve lo dico con un po' di esperienza.